Ma ragazzi! Abbiamo finalmente sbloccato anche le aranje oltre a quelli stupidissimi mili! Ecco, adesso possiamo finalmente usare, usare, usare e comprare, 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 comprare tanto, 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 tante cose! Questa cosa, questa cosa, questa cosa qua, non so che cosa sia però la compro, la compro, la compro! Ecco, 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 cresce, 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 questa, questa pianta straordinariamente colorata, così, incredibilmente, crescono pure le mele, le mele, le aranje, l'unica storia, c'è, adesso sulle api che rompono i coglioni! Adesso le sterminiamo così, questo vado qua, questa, questa tazzetta qua, ecco, grandici, grandici, poi splendide, fallide splendide, ecco, poi le raccogliamo, raccogli, 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 ci sono, ecco, ecco, le raccogli, prende una, tre, con queste forbici, straordinariamente, telepatiche, ecco, le mette, le mette, le mette, le mette, le mette, le mette, è una, è due, ed è, ecco, ci sono più, c'estibili, e raccogli, e, ecco, le mette, le mette, non c'è un cazzo senza crescere, e non c'è un cazzo, sta crescendo niente, sono niente, ragazzi, 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 allora, 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 stanna, stanna, stiamo qui, qua bisogna, assolutamente, fare crescere le svolte, e, 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 e poi bisogna fare una lucidina, ecco le lucidi, le lucidi, le lucidi e poi pa, 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 pa e poi le lucidi ancora e poi le grattici e poi le lucidi e poi le... e poi ammazziti le merdine di mosche e poi le raccoglioni 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 perché schiaccia tutto sul frutto marcio qua vada le raccoglioni, non faccio la merda a sopra, non mi dà troia, vada, le raccoglioni, le raccoglioni, le raccoglioni, le raccoglioni Di depositi, di depositi, di depositi Lo sto già facendo, sto facendo un cazzo Vai, vai Via, via, una, due, e tre Adesso c'è questo momento di stasi Questo momento di stasi Dai, non lo faccio, non lo faccio Non lo faccio, non lo faccio Non lo faccio, non lo faccio Non lo saluta così Non lo saluta Dai albero, dai, dai, dai Che la fai uno Che la fai uno, che la fai uno Sui dica Vai, 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 incredibilmente Cresce, 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 cresce Venga, mi sto, mi sto, mi sto Vai, ammazza queste mosche di merda Vai, ingrandisci la puttanata Vai, vai, ammazza queste mosche Ammazza, 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 ammazza Ah, vai, raccogli, raccogli, raccogli Accogli, raccogli, vai, vai Ecco, è una, e due, lentina Lenta, 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 dai Flora, dai, dai, Flora Flora, che ha le prestazioni, vai Le rimette, le rimette nel cestino Le rimette Una, e due Le diamo, le diamo, le diamo Vai, vai, incredibilmente Guarda, ecco, di nuovo un momento di stasi Un momento di stasi Schifosissimo un momento di stasi Schifosissimo un momento di stasi Eccolo già qua Eccolo, eccolo, eccolo E cresce, e lo ingrandiamo E cresce, e lo ingrandiamo E la pigli, e la raccogli Vai, zappate, zappate Lo sta già facendo Lo sta già facendo E lo fa, e lo fa Renzone, renzone, renzone Renzone, renzone, renzone Renzone, vai, vai Guarda, lucida, 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 lucida Lucida Uuuuh, la chiusura Ok, bene Ha raggiunto abitivo il giorno Il circus o xanadu È un livello straordinario oggi Questo albero bello colorato, bello E qua poi È l'ora dello shopping Attenzione Come sopperire a questa noia mortale Con dell'ottimo shopping Possiamo comprare delle scarpette Che costano ben mille Milli Dullaroni E probabilmente Ti fanno correre straordinariamente Straordinariamente straordinarie Queste scarpette Belle chic, belle rossine E poi abbiamo questa cassettita qua Lo compriamo Questo fenicottero Lo sa aggiungi un tocco Ritro Alla tua fatturiera Il migra e i clienti A questo fenicottero Per gli anni iniziano Eeeh Lo compriamo Oh, il fenicottero WOOOOO E poi compriamo anche L'ottimo agnomo Si dice che gli uomini Attivano la tensione Delle safalle A questo agnomo Per gli anni iniziano Ecco, oddio Quello sanno Ci toglie dai coglioni E anche Dele schifezze Questa è vista Che è la statua Velocizza E il rispondimento Di noti di crescita A questa statua Per gli anni iniziano E la compriamo Ecco, la compriamo Abbiamo tutto Adesione Adesso con questi Gli utili Abbiamo delle prestazioni Guarda Da fanico Da fanico SORBI 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 Adesso proviamo Con queste nuove prestazioni Eeeh Fine Ecco qua Ci siamo ragazzi Abbiamo questi ottimi gadget L'olio mettino Fenicotterino E la statuettina Cresci, cresci, cresci Cresci, cresci Cresci, cresci Guarda come crescita Ecco E adesso cominciamo A smanettare Le prestazioni Ecco qua Incredibilmente Buone Due e tre E poi le raccogliamo Ecco l'olio Omo Che ha Ecco Ci sono più tante Farfalle Ecco ci sono delle Utiliche anche Molto Molto utili Queste Questi gadget qua Sono degli acquisti Veramente Stati degli Ottimi acquisti E cominciamo A vendere A manetta E come sempre In questo momento Di schifosa stasi Ci sono le farfalle Ecco delle farfalle Che cosa fanno Le farfalle Rallegrano Rallegrano Vedete come sono Tanto tanto Comiosamente felici I nostri clienti Che vedono queste farfalle E sono contenti E sganciano anche Del denaro Sganciano anche La mancetta Vedi Dieci dollari In mancetta Ci sono anche sempre Ecco adesso Questo qua È un po' meno contento Perché sta aspettando E qua Non cresce niente Ecco sta cominciando A crescere Lo sta già facendo Lo sta facendo Ecco Cresce 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 L'allucidate L'allucidate Ma hai una lucidatina Anche Una lucidatina Eh Perché la frutta La frutta È ottima Se gli dai una lucidatina Raccogli Raccogli Ecco Ecco Queste Le solite Forbici Manuali Spaziali Eccolo là E una Due tre Cominciano a servire I clienti Che sono contenti Questa signorina Sta servendo Straordinariamente Questo è un momento Di scasi E questo signorina Sto 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 Comunque Questo albero Ecco Questo piappino Xanadu Ha degli alberi Scasi Eh Ci sono questi momenti Scasi Eh Qua si perdono i clienti Ragazzi Stiamo parlando i clienti Attenzione Lo rilenci Chi dai Questa cosa Ecco che tornano Queste seccature Che ritorna Ecco Ecco Vai Vai Cresci 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 Lucida 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 Ecco E raccogli E raccogli E dopo che raccolto Lo vetti E dopo che lo metti Lo vendi E Vai Ecco L'ottimo E uno E due Attenzione Si sta facendo Nostra Per scadere il tempo Vai Vai Ingrandisci 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 E vai Lucida Lucida E poi Cosa fai Indovinate La raccoglie E dopo che la raccoglie Indovinate E la mette E dopo Cosa fa La dà Ecco 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 Le seccature Ecco Le seccature Vai Ammazzare Sti moschitti E già raggiunto Obiettivo Grande prestazioni WOOOOOO